Sono stati presentati i nuovi mezzi che andranno a sostituire quattro autobus della linea LAM rossa, quattro macchine che vanno a sommarsi alle cinque della LAM blu acquistati la scorsa primavera. Questi nuovi mezzi, tutti Euro 6, saranno utilizzati nella tratta San Vito-San Concordio e San Vito-Sant'Anna. Dotati di climatizzazione e di accesso facilitato ai portatori di handicap, i nuovi mezzi hanno dimensioni tali da consentire il loro utilizzo nel centro storico, pur essendo più grandi delle attuali navette furgonate. Un investimento che la società CTT Nord ha affrontato nonostante il contenzioso giudiziario che sta allungando i tempi per la gara di aggiudicazione del servizio trasporto pubblico regionale. Sì, è un investimento necessario che testimonia come un'azienda guarda avanti fiduciosa di essere poi alla fine aggiudicataria del servizio e quindi questi investimenti sono semplicemente un'anticipazione di quello che tanto dovremmo fare presto. Il fatto che oggi arrivino altri mezzi che vanno quindi a coprire l'intero parco macchine della LAM rossa contribuirà a creare un servizio migliore per l'utenza che avrà mezzi più confortevoli e più adatti al trasporto pubblico. Adesso la speranza dell'utenza è che il servizio migliori soprattutto per quello che riguarda la puntualità e la frequenza delle corse e che si riesca a risolvere il nodo delle corse della domenica mattina, particolarmente sentito soprattutto dagli anziani che si vedono impossibilitati negli spostamenti.